Abbiamo una partita domani sera molto importante, giochiamo contro una grande squadra che adesso in questo momento è prima nel nostro girone. È una squadra che è cresciuta negli ultimi anni, dimostra la vittoria nella Coppa del Re e anche adesso è quarta in campionato. È una squadra che gioca molto bene a calcio, è una squadra molto tecnica quindi sarà una partita molto tosta, però sappiamo allo stesso tempo la forza della nostra squadra, la forza della Roma e in più avremo tutto lo stadio dalla nostra parte quindi sono sicuro che ci darà la carica per fare il risultato. Questo è un periodo molto intenso, si giocheranno tante partite tra campionato e Coppa è il momento anche di dare continuità proprio perché la Roma viene da una bellissima vittoria a San Siro vincere domani sarebbe altrettanto importante, trovare continuità contro grandi avversari è quel punto in più che la Roma deve cercare quest'anno. Io penso che trovare la continuità non solo contro le grandi squadre, partita dopo partita perché io penso sempre che vincere aiuta a vincere. Quando vuoi diventare una grande squadra l'ha fatto dalla vittoria deve diventare quasi come una malattia non puoi farne a meno e quindi stiamo lavorando tutti i giorni anche su questo lato mentale perché vogliamo vincere tutte le partite, partita per partita, fare sempre il massimo e solo così puoi assumere consapevolezza e forza nei propri mezzi. Ti chiedo un'ultima cosa, come ti senti quanto sei migliorato in questo primo periodo in giallo-rosso? Allora mi sento bene, ho avuto un bel po' di tempo per potermi allenare e anche nella pausa delle nazionali ho fatto anche degli allenamenti aggiuntivi perché sapevo che mi sarebbero serviti per ritrovare nel modo migliore la condizione. Ora sto bene, ho creato anche un buon affiatamento con i miei compagni e questo sicuramente è un grande punto di partenza. So che c'è sempre da migliorare perché tante cose si devono sempre migliorare, si possono migliorare perché bisogna raggiungere sempre un livello di perfezione, di intesa massima perché solo così si possono ottenere i grandi risultati. Ora ripeto, sto bene e bisogna solo continuare a lavorare.